Il Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Costruzioni è una grande infrastruttura di Ateneo che si occupa della sperimentazione e certificazione di materiali e prodotti da costruzione, principalmente nell'ambito dell'ingegneria civile. Il laboratorio è dotato di attrezzature sperimentali che permettono di eseguire prove meccaniche con forze che variano da pochi newton fino a 5.000 kN in compressione e 3.000 kN in trazione. A fianco della sperimentazione sui materiali tradizionali dell'ingegneria civile, quali i calcestruzzi e gli acciai, negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi settori che si occupano della sperimentazione di materiali innovativi, quali materiali compositi per l'edilizia e dello studio e della certificazione di nuovi prodotti per impieghi strutturali, quali i dispositivi di tipo antisismico e i cavi da post-tensione. Il laboratorio svolge attività di ricerca, di didattica e di servizi alle imprese, occupandosi quindi della sperimentazione sui materiali e anche della loro certificazione. Il laboratorio è il laboratorio ufficiale della Repubblica Italiana per la certificazione dei prodotti da costruzione ed è anche organismo notificato nell'ambito del regolamento europeo dei prodotti da costruzione per la marcatua CE di appoggi strutturali, sistemi di post-tensione, dispositivi antisismici e prodotti laminati in acciaro da costruzione. Tra le attività svolte del laboratorio vi sono anche prove di qualificazione di componenti per strutture ferroviarie. Su questi componenti eseguiamo prove di durabilità, di resistenza agli agenti ambientali e anche prove di carico statico-dinamico, ad esempio come prove cicliche per verificare la resistenza fatica delle traversine ferroviarie. Nell'ambito delle prove di qualifica dei cavi per i sistemi di post-tensione, le attività sperimentali comprendono principalmente prove statiche e prove di fatica. Uno dei settori sviluppati più di recente nel laboratorio riguarda la certificazione dei dispositivi antisismici. All'interno del laboratorio sono state sviluppate dei sistemi per eseguire prove di verifica del comportamento ad attrito dei materiali utilizzati negli isolatori a scivolamento. Queste macchine permettono di verificare il comportamento di attrito sia in condizioni di breve durata che dopo diversi anni di attività. Mediante queste macchine siamo in grado di simulare periodi di servizio fino a 50 anni, quindi siamo in grado di verificare il comportamento dei dispositivi a lungo termine. Attraverso queste macchine abbiamo eseguito la qualificazione dei prodotti utilizzati nelle principali infrastrutture viarie a livello internazionale, tra cui di recente gli appoggi dei ponti del nuovo viadotto Polcedera.